Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi porto un'anticipazione di Terra Amara, davvero incredibile. Scopriremo finalmente dove è finita l'eredità di Ilmaz, e vedremo Beis che farà di tutto per appropriarsela. Ce la farà? Se siete curiose di sapere come si evolverà la storia di Terra Amara, scrivete, sì, nei commenti. Iniziamo. Zuleia si avvicina alla sala da pranzo con l'intenzione di iniziare la giornata con una leggera colazione. Tuttavia, il suo passo si interrompe quando Sevda entra nel locale, portando con sé un'aria di preoccupazione palpabile. Le parole di Sevda trasudano ansia mentre chiede notizie di Demir a Zuleia. Zuleia, con tono serio, rivela che Demir non è tornato a casa la notte precedente. Sevda, con il cuore in gola, cerca di lenire le preoccupazioni di Zuleia, suggerendo che potrebbe essere stato solo un imprevisto. Poco dopo, Demir fa il suo ingresso nella villa. Sevda lo interroga sul motivo del suo ritardo la sera prima, ma Demir rimane stranamente silenzioso. Zuleia, con una voce appena udibile, suggerisce che deve essere stato qualcosa di estremamente importante. Demir alla fine rivela di aver trascorso la serata con degli amici, lasciandosi andare ai piaceri del vino e decidendo di pernottare in un hotel. Zuleia gli chiede se ha già fatto colazione, e lui, con un sorriso malizioso, risponde negativamente. Zuleia interroga Demir sul motivo del suo ritardo, rivelando che è rimasta sveglia tutta la notte ad aspettarlo. Demir ascolta le sue parole e promette che in futuro avviserà sempre in caso di ritardo. Poco dopo, Sermin fa il suo ingresso alla ricerca di Zuleia. Sermin informa Zuleia che i lavori di riparazione del club sono stati completati e che il luogo è ora pronto per l'evento da loro organizzato. Demir, ponendo una domanda, chiede se stanno discutendo dell'asta di beneficenza degli oggetti appartenuti a Ankar. Zuleia, con voce chiara e decisa, conferma che è proprio di questo che stanno parlando. L'intero villaggio è in fermento per l'evento. Demir, con un tono solenne, ricorda quanto abbia dedicato alla sua vita e alla gente di Cucurova e come il suo spirito continuerà ad aiutarli anche dopo la sua scomparsa. Zuleia chiarisce che l'asta non è legata all'associazione ma è un gesto del cuore per sostenere chi è meno fortunato, poiché i proventi saranno devoluti a una fondazione dedicata agli orfani. Demir, commosso, elogia l'idea e esprime quanto Ankar sarebbe stato orgoglioso. Zuleia esprime il suo desiderio di onorare il nome di Ankar, ed Demir afferma la sua partecipazione a questo evento significativo. Zuleia assume con determinazione la responsabilità e si dirige verso il club, dove, insieme alle sue amiche, inizia a organizzare l'evento. La sera, il club cittadino si riempie di vita e aspettative, diventando il palcoscenico per l'asta degli oggetti appartenuti a Ankar. L'aria è permeata di gratitudine mentre gli ospiti esprimono il loro apprezzamento per aver dato vita a un evento così significativo in onore di un gesto d'amore verso i bambini orfani. Zuleia annuncia che non si limiterà a donare il ricavato dell'asta ma offrirà anche una delle sue proprietà alla fondazione, un gesto magnanimo per sostenere i piccoli in difficoltà. Nel frattempo, Sermin e Fuzun discutono della generosità di Zuleia, mentre Beis, ora residente nella piccola villa, ascolta attentamente e scopre l'esistenza di un capanno. Decide di esplorare la proprietà di Zuleia. Durante degli scavi e delle riforme vicino al capanno, sotto lo sguardo attento di Gaffur, emerge una scatola misteriosa contenente una notevole quantità di denaro. Gaffur, visibilmente agitato, non riesce a resistere alla tentazione e inizia a raccogliere il denaro. Beis, testimone dell'incredibile scoperta, si avvicina rapidamente ai soldi e ordina a tutti di tenersi lontani. Beis dichiara che quei soldi appartenevano a Ilmaz, ma ora sono di sua proprietà e di Mushgan. Gaffur, alzando un sopracciglio, la sfida e le chiede come può essere così sicura che il denaro fosse nascosto lì. Beis, con il volto acceso dalla rabbia, urla a tutti di tacere e di consegnare il denaro. Gaffur, con tono assertivo, si rivolge al proprietario della fondazione, sottolineando che le affermazioni di Beis sono pura follia. Il denaro era nascosto nella proprietà degli Yaman, e nessuna prova sostiene che appartenga a lei, se qualcuno ha diritto su quei soldi, è la famiglia Yaman. Il proprietario della fondazione, con voce ferma, ribadisce a Beis che il denaro era nella proprietà degli Yaman e quindi non può rivendicarne la proprietà. Beis afferra i soldi e in un grido disperato proclama che erano di Ilmaz, ma ora sono suoi. Inizia una fuga frenetica, ma diversi uomini la bloccano. Beis insiste, affermando che il denaro le appartiene e che privarla di esso sarebbe un crimine. Gaffur, la sfida chiedendole con quale diritto rivendichi quella fortuna, le sue parole sono taglienti, sottolineando la assurdità delle sue affermazioni, poiché ora quei soldi sono patrimonio dello Stato. Beis, tra grida e suppliche, tenta di resistere ma il proprietario della fondazione ordina di chiamare la polizia. La tensione è alle stelle mentre tutti la esortano ad esistere e a lasciare il denaro. Con fermezza, Beis rifiuta di arrendersi, e le voci aumentano in un coro di avvertimenti. Sotto la crescente pressione, alla fine cede alla disperazione, scoppiando in lacrime in un gesto di rabbia e dolore. Lanciando la borsa, proclama che quei soldi sono suoi. Gli uomini raccolgono il denaro, mentre Gaffur astutamente ne sottrae una parte. Il proprietario della fondazione dichiara che quei soldi sono ora nelle mani dello Stato. Gaffur, con un commento pungente, osserva quanto sia difficile per Beis rinunciare a quella fortuna e quanto sia stato insensato il suo tentativo di appropriarsene. Nel club cittadino si riunisce l'associazione. Tutti sono entusiasti del grande lavoro svolto da Zuleia e sono impazienti di conoscere il ricavato ottenuto. In un momento di grande gioia, Gaffur e il proprietario della fondazione fanno il loro ingresso portando con sé una rivelazione scioccante. Nel terreno donato da Zuleia sono stati scoperti 20 milioni di lire. Zuleia, visibilmente scossa, realizza che quel denaro era il tesoro nascosto di Ilmaz, destinato a finanziare la fuga. Il proprietario della fondazione chiede a lei come mai una somma così consistente fosse sepolta proprio lì, e con lo sguardo pensieroso si interroga su chi possa essere stato l'artefice di tale nascondiglio. Gaffur racconta l'episodio di Beis durante gli scavi, la sua fuga precipitosa alla vista del denaro e il grido di rivendicazione mentre cercava di fuggire con il bottino, ma è stata prontamente fermata. In un clima di tensione e aspettative, il proprietario della fondazione presenta il rapporto ufficiale a Zuleia, che rimane seduta immersa in uno stato di shock. Sermin chiede quale sarà il destino di quella fortuna nascosta e, con uno sguardo penetrante, afferma che ora quei soldi sono nelle mani dello Stato. Si interroga se Mujgan possa avanzare pretese, sostenendo che il denaro appartenesse a Ilmaz, ma il proprietario della fondazione, con tono deciso, chiarisce che non ci sono prove a sostegno di questa tesi e che se c'è qualcuno che può avanzare diritti su quei soldi, è Zuleia, la proprietaria originaria del terreno. Mentre tutti esprimono il loro disprezzo per Beis, rallegrandosi che il suo tentativo di appropriazione sia fallito. Nel frattempo Zuleia, è immersa nei suoi pensieri. Cosa ne pensi? L'eredita, rimarrà a Zuleia? Se vuoi sapere il continuo, commenta con un sì. Iscriviti al canale e lascia un mi piace. Ciao!